Due anni per frode fiscale. Francesco Caltagilone Bellavista, imprenditore, finisce sotto inchiesta nel 2010. La Procura di Imperia lo accusa di tuffa, gravata ed abuso d'ufficio per i lavori del porto di Imperia. Finito in carcere nel marzo del 2012. Nel novembre del 2014 il Tribunale di Torino lo assolve in primo grado perché il fatto non sussiste.